oggi recensisco l'album dei maneskin teatro d'ira volume 1 del 2021 su richiesta fatta su patreon da matteo bosi secondo album della formazione romana largamente osannato da testate e critici nazionali quali rolly stone che lo pongono come miglior album italiano del 2021 registrato interamente in presa diretta prodotto dal manager fabrizio ferraguzzo ex discografico di sony music italia direttore musicale di x factor ma anche pigmalione per esempio di chile lauro e pinguini tattici nucleari insomma il meglio nostrano sotto un'unica cappella viene realizzato nei mulino recording e di fatto ad oggi è il prodotto uscito da viterbo più famoso di sempre anche a livello di scrittura rispetto al debutto interamente composto da damiano david teatro d'ira volume 1 si pone come sforzo collettivo dell'intera band la prima cosa che salta all'occhio in modo anomalo è proprio la track list del disco nonché la sua durata sono solo otto canzoni per una durata complessiva di 29 minuti non si arriva nemmeno alla mezz'ora di musica e per non farsi mancare nulla ogni titolo è rigorosamente scritto in maiuscolo col caps lock proprio come urlano sui social certi utenti meno dotati definire album 29 minuti di musica meno che non si tratti di misfits ora mons sembrerebbe un azzardo è più un epi glorificato ma in realtà mi rimetto alle fasi conclusive per definire al meglio spero la natura di questo lp la sua brevità è comunque una fortuna per alcuni versi il disco si apre con la celebre zitti e buoni non dichiarato tributo ai royal blood meno riusciti con qualche sprazzo di redocili peppers qua e là che vedremo si riveleranno come la principale sorgente ispirazionale di questo lavoro altra costante in questi brevi ma intensi 29 minuti è il cantato anzi l'over singing di damiano david che riempie con il suo rap ogni spazio disponibile di ogni canzone dalle prime note siamo aggrediti verbalmente e metricamente da un flusso continuo di giberi shantagonista e zitto e buono verrebbe da dirlo noi a lui secondo brano del disco e la band ci introduce di già alla prima ballata coralline il sentore di scartiscio è evidente ma prima che la cosa li porti in tribunale ecco arrivare la progressione a quattro accordi tipica dell'alternative anni 90 più alla buona lo stop con i flamm di batteria addirittura ci riporta i fasti di living on a prayer anche se questo pezzo ingiustificatamente datato riporta più agli scancananzi che a tagli più nobili del grange infatti non sa di grange sa di vecchio e basta anche qui damiano non si risparmia canta tutto a mille senza respiro come rap put ma a differenza di claudio bisio le metriche qui sono a caso e cantate rigorosamente in maniera amatoriale così come perfettamente in linea con esecuzione e composizione di questa ballad inoltre per tutto l'ascolto passerete il vostro tempo a chiedervi a che cosa assomigli quindi ve lo consiglio come passatempo alternativo alla settimana enigmistica per tenere il cervello in forma lividi sui gomiti ci riporta su toni aggressivi il testo va di pari passo la rivendicazione di essere giovani me ne freghisti convinti e incompresi ma in realtà non ce ne frega un cazzo parole testuali le metriche sono al solito senza senso fondamentalmente damiano canta in modo ritmico per aggirare l'evidente incapacità di scrivere melodie peccato che l'effetto finale sia una sorta di frankie sein realizzato col peggio di frankie high energy e l'altrettanto peggio dei silver chair i maneskin si cimentano con la lingua inglese in i wanna be your slave ma forse sarebbe stato più cauto restare nei confini del nazionalismo letterario così da risparmiare ai puristi una pronuncia impresentabile con la quale damiano condisce il suo finto ragga da centro sociale sì ma dei parioli musicalmente è una marcetta finto rock nulla più finto ragga e finto rock cliché e soluzioni da bigiotteria da bancarella in nome del padre il pezzo più violento del disco ed è qui che damiano si abbandona a liriche di assoluto spessore quali tu stami ad un palmo dal culo testa di cazzo ho scelto di essere uno ed uno soltanto toccare il cielo e tornare a mangiare asfalto in nome del padre del figlio e spirito santo urla si dimena come un boss del quartierino ma la credibilità è la stessa di un truce baldazzi capoclan della mala inoltre è ammirevole come la sua voce il suo cantato riescono a rovinare sempre ogni pezzo con una puntualità svizzera for your love ci riporta al trito e ritrito ma stavolta il colpo è ancora più basso se pensi arrivato a questo punto che il peggio sia finito beh il reality check è il più brusco possibile a damiano il plauso di non cantare questo genuinamente orrendo ritornello ma di riuscire a latrarlo definire questa composizione e realizzazione amatoriale significa veramente volergli bene come lo si vuole a un figlio nato male a convalidare l'assoluta mancanza di uno straccio di idea in termini di armonia linea melodica ed arrangiamento ci pensa la paura del buio il ritornello è francamente imbarazzante chiunque dotato di amor proprio ma eviterebbe di cantarlo ma non i maneskin che lo trascinano come se fossero i protagonisti di weekend con il morto l'oversing in cui è onnipresente la paura del buio è forse il peggio assoluto di questo disco il pezzo è la certificazione che se avete tranguggiato poltiglia fecale fino a questo punto la cena era a tema e il dessert non sarà di diversa natura e infatti non sarà di certo la conclusiva vent'anni a lasciarvi un sapore migliore in bocca nessuna ricerca del suono finisce per sembrare un pezzo scadente del vasco di bollicine ma con uno del pubblico che viene chiamato sul palco a cantare per tutto il disco la sensazione più ricorrente è stato l'imbarazzo per loro specialmente per l'inadeguato damiano david buono per foto e video ma messo a nudo dalla propria vocalità che purtroppo per lui non può migliorarsi con i filtri in realtà forse ti senti in imbarazzo maggiormente per chi questa robaccia di infima qualità l'ha acclamata la sdoganata gli ha dato credibilità ed autorevolezza invece che fare l'unica cosa intellettualmente onesta possibile ovvero stroncare questo abominio di show off di amatorialità impunita musicalmente ogni esecuzione è average at best ma il cantato quello sì quello è veramente allo sbaraglio ti aspetti sempre il via della corrida per tirare fuori i campanacci e i fischietti e poter ululare il tuo sdegno ma purtroppo non arriva mai l'unica fortuna appunto è la durata ma voglio tornare proprio su quest'ultima 29 minuti sono una truffa di maiuscoli in questo disco c'è solo il caps lock dei titoli l'incapacità di scrivere canzoni esce trionfante da questo contest e quelli loro sono abituati hanno riportato la vittoria come se fosse la musica uno sport un contest tra inadeguatezza e amatorialità fortunatamente adesso hanno cordate di autori pop internazionali che possono scrivergli dei giri di do con uno straccio di melodia alla katie perry che fosse questo il loro destino già dal principio ma forse magari invece che maltrattare il ricordo che avevamo di un certo rock anni 90 questo è un disco per adolescenti è l'equivalente di una maglia dei ramons che compri all'ovs in conclusione tutto mi aspettavo sinceramente fuorché ritrovarmi ad ascoltare un demo di otto tracce infatti ritengo che l'unico formato giustificabile per questa truffa di disco sia la cassetta scritta a mano col pennarello ci sono dischi da quattro che hanno dignità maggiore di questa sequenza da tre e mezzo richiedimi una recensione abbonandoti a patreon lascia un like a questo video iscriviti al canale seguimi in live sul canale viola dal lunedì al sabato dalle 14 alle 16 alla prossima